Che è impensabile, soprattutto in quelle aree, mantenere ancora le tendopoli. Noi fu proprio nel periodo, in questi giorni, che la protezione civile, che era in nettissimo ritardo, chiese proprio a me di andare nei campi e fu drammatico a convincere i cittadini a quel punto a trasferirsi anche a 30, 40, 50, 60 km di distanze perché tutti gli alberghi erano pieni e sette mesi, sei mesi, il tempo per realizzare i moduli abitativi prefabbricati, i muspe per le scuole, sono tempi, direi, tecnici, puoi correre quanto vuoi, furono bravissimi i trentini a realizzare il villaggio di Onna, bellissimo, fra l'altro, non hanno fatto dei moduli prefabbricati, hanno fatto dei piccoli chalet, però grazie a Lorenzo De Lae e tutti i guanti sono stati eccezionali, però insomma il tempo ci vorrà, un po' di tempo, l'unica in questo momento è offrire un'ospitalità dando comunque la possibilità di una pendolarità con quei luoghi, la cosa importante è che non vengano allontanati, non vengano deportati da matrice o dalle varie frazioni, non vogliono, è una cosa terribile, noi abbiamo offerto il progetto case, il progetto case Berlusconi e case Antisismo che furono realizzate perché l'idea era di non ricostruire l'Aquila, poi vincevamo la battaglia, ci sono qui testimoni di quell'epoca, noi attualmente abbiamo 1500 vuote, parecchie, non hanno senso di essere mantenute perché alcune ditta hanno lavorato male, noi abbiamo messo a disposizione 304 appartamenti, abbiamo rimesso su, sono venute una ventina di famiglie, abbiamo già predisposto se necessario, perché deve scegliere le popolazioni, un servizio navetta diciamo così, perché noi in fondo siamo a 45 km di cui 20 molto, adesso con una strada molto agevole, poi 33 insomma sono le nostre strade montagne alle quali siamo abituati, io credo che potremmo dare questa ospitalità per l'inverno o noi o in altre zone più comode per questi cittadini, dando il tempo di realizzare questa città virtuale, io ho consigliato ad Errani, col quale ho parlato l'altra domenica appena letto sul giornale possibilità che egli potesse diventare il commissario, anche di realizzare i piccoli, allora muspe per le scuole, le scuole sono fondamentali, noi vincemmo la battaglia perché chiedemmo di fare scuole, perché dove vanno i cuccioli chiaramente vanno anche il papà e la mamma, lì però il pendolarismo è un problema, noi facciamo il pendolarismo, attenzione, però fu una scelta, io mi ricordo che avevano i nipotini piccoli, i figli dei miei cognati, che a 7 anni, 8 anni si alzavano a Tortoreto, a Pescara, si alzavano alle 5 di mattina, facevano scuola all'Aquila e la sera tornavano in attesa di rivenire, questo è l'unico modo perché non si abbandoni e le popolazioni lo fanno, è chiaro che devi andare di corsa a realizzare questo.